Nel corso di un servizio antidroga svolto dai carabinieri di Bari nel popolare quartiere Iapigia è stato tratto in arresto un 55enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo un'attenta perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 4,7 kg di marijuana e 18 g di hashish. La droga era nascosta all'interno di un furgoncino ed è stata posta sotto sequestro dei militari, mentre il 55enne senza precedenti penali su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato rinchiuso nel carcere di Bari.